Gnosi, un viaggio alla conoscenza segreta. L'agnosi, dal greco antico, conoscenza, è un termine che racchiude un'ampia varietà di correnti religiose e filosofiche che fiorirono tra Elì e il II secolo XI, principalmente nell'area mediterranea. Al centro di queste correnti vi era la ricerca di una conoscenza salvifica, un'agnosi appunto, che permettesse all'individuo di raggiungere la salvezza e liberarsi dalla schiavitù del mondo materiale. Le origini dell'agnosi Le radici dell'agnosi sono complesse e affondano in diverse tradizioni, tra cui il platonismo, l'ognosticismo giudaico e la filosofia ellenistica. L'influenza di queste diverse correnti è evidente nei testi gnostici, che spesso presentano una cosmologia dualista, con un Dio supremo e trascendente contrapposto al demiurgo, il creatore del mondo materiale e la conoscenza segreta. Per gli gnostici, la conoscenza salvifica non poteva essere raggiunta attraverso la fede o le tradizioni religiose, ma solo attraverso un'esperienza interiore diretta, spesso definita l'illuminazione. Questa esperienza poteva essere raggiunta attraverso diverse pratiche, come la meditazione, l'ascesi e l'estasi. La salvezza e la liberazione Lo scopo dell'agnosi era la salvezza e la liberazione dell'anima dalla schiavitù del mondo materiale. Gli gnostici credevano che l'anima fosse imprigionata nel corpo a causa del demiurgo e che solo attraverso la conoscenza poteva liberarsi e raggiungere il regno di Dio. Le diverse correnti gnostiche Esistono diverse correnti gnostiche, ognuna con le sue peculiarità. Tra le più note ricordiamo l'ognosticismo valentiniano, l'ognosticismo marcionita e l'ognosticismo manicheo. L'agnosi e il cristianesimo L'agnosi ebbe un'influenza significativa sul primo cristianesimo, tanto che alcuni studiosi considerano l'ognosticismo come una delle prime eresie cristiane. La Chiesa cristiana, però, finì per condannare l'agnosi come una dottrina pericolosa e deviante. L'agnosi nella storia Dopo la condanna da parte della Chiesa, l'agnosi scomparve quasi completamente per secoli. Tuttavia, le sue idee continuarono a circolare in modo sotterraneo e riemersero in diverse epoche storiche, come il Rinascimento e l'Illuminismo. L'agnosi oggi Negli ultimi anni, c'è stato un crescente interesse per l'agnosi, sia da parte di studiosi che di persone interessate alla spiritualità. Questo interesse è dovuto in parte alla riscoperta di antichi testi gnostici, come i Vangeli apocrifi e la Biblioteca di Nag Hammadi. Conclusione L'agnosi rappresenta un capitolo affascinante e complesso della storia religiosa e filosofica. Le sue idee sulla conoscenza, la salvezza e la liberazione continuano ad essere oggetto di studio e dibattito, e la sua influenza si può rintracciare in diverse correnti spirituali e filosofiche del mondo contemporaneo. Le cosmologie gnostiche presentano una varietà di visioni sul creato, spesso in contrasto con la tradizione religiosa dominante. Un elemento comune è il dualismo, che contrappone due principi opposti, il Dio Supremo, trascendente e ineffabile, e il Demiurgo, creatore del mondo materiale. Il Demiurgo è spesso visto come un essere inferiore, imperfetto e addirittura malvagio, che ha imprigionato l'anima umana nel corpo materiale. Figure mistiche e divine L'Agnosi presenta un panteon di figure mitiche e divine, spesso identificate con le emanazioni del Dio Supremo. Tra le più note ricordiamo, Sofia Saggezza, la prima emanazione del Dio Supremo, spesso associata alla creazione del mondo e alla caduta dell'anima.cristoristo gnostico, un essere divino che assume diverse forme e ha il compito di redimere l'anima umana e guidarla verso la salvezza. Demiurgo creatore, il Dio del mondo materiale, spesso visto come un essere inferiore e malvagio punto arconti potenze, entità angeliche che controllano il mondo materiale e ostacolano l'ascesa dell'anima. Rituali e pratiche gnostiche I rituali e le pratiche gnostiche erano finalizzati all'illuminazione e alla liberazione dell'anima. Tra le più diffuse ricordiamo, meditazione, una pratica volta a raggiungere uno stato di quiete interiore e di contatto con la divinità. Ascesi, una disciplina che prevedeva il rifiuto del mondo materiale e dei suoi piaceri. Estasi, un'esperienza mistica di unione con la divinità. Iniziazione, un rituale di passaggio che conferiva al neofita la conoscenza segreta dell'agnosi. Rapporto tra agnosi e magia L'agnosi era spesso associata alla magia, vista come un mezzo per ottenere poteri soprannaturali e accedere alla conoscenza segreta. Tuttavia, non tutte le correnti gnostiche facevano uso della magia, e alcuni gnostici la consideravano addirittura una pratica pericolosa e deviante. Influenza dell'agnosi sulla cultura e l'arte L'agnosi ha avuto un'influenza significativa sulla cultura e l'arte, in particolare durante il Medioevo e il Rinascimento. Le sue idee sulla conoscenza, la salvezza e la liberazione hanno ispirato diverse correnti filosofiche e spirituali, come l'ermetismo e l'alchimia. Inoltre, l'agnosi ha lasciato tracce nella letteratura, nella pittura e nella scultura. Letteratura, il Faust di Johann Wolfgang von Goethe è un esempio di opera letteraria influenzata dall'agnosi. La ricerca di Faust per la conoscenza e la sua discesa negli inferi possono essere interpretate come una metafora, del viaggio gnostico. Pittura, il dipinto Il giardino delle delizie terrene di Hieronymus Bosch presenta una rappresentazione del mondo materiale come un luogo di peccato e di tentazione, in linea con la visione gnostica del mondo. Scultura, la scultura e l'estasi di Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini raffigura l'esperienza mistica di unione con la divinità, un tema ricorrente nell'agnosi.